Una sperimentazione per contrastare l'abbandono di rifiuti. Anche nelle marine leccesi da lunedì scorso e fino al prossimo 31 agosto al via la raccolta differenziata solo per plastica e organico in collaborazione con Monteco. Sul sito internet anche il calendario per le 5 marine Frigo, San Cataldo, Torre Chianca, Torre Rinalda e Spiaggia Bella. Abbiamo accolto questa proposta da parte di Monteco e provvederemo alla raccolta porta a porta per le utenze domestiche anche nelle località marine. Questa iniziativa ha fondamentalmente un doppio obiettivo da un lato quello di migliorare la qualità del rifiuto conferito e quindi la percentuale di differenziazione che purtroppo nel periodo estivo subisce sempre una deflessione. Dall'altro quello di arginare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che trova proprio nelle postazioni di prossimità spesso il teatro ideale dove poter estrinsecarsi. Ma il progetto proposto dalla Monteco e accettato dall'amministrazione comunale servirà anche per provare ad arginare quel fenomeno di evasione tributaria in merito alla raccolta dei rifiuti così come sottolinea l'assessore alle politiche ambientali Angela Valli. Ci tengo a precisare che questa operazione fa parte di un programma molto più ampio finalizzato proprio al contenimento dell'abbandono. Stiamo mettendo a punto diverse iniziative, diverse operazioni di cui ovviamente vi metteremo a conoscenza proprio per arrivare a limitare se non a eliminare completamente, si spera, l'abbandono e parallelamente anche il fenomeno dell'evasione perché vanno a braccetto i due fenomeni.